Il riscaldamento globale è un fatto, è semplicemente l'innalzamento della temperatura media della Terra negli ultimi 150 anni. È un fatto perché lo si vede da questo grafico che mostra l'anomalia, cioè la variazione della temperatura media terrestre, negli ultimi 2000 anni. Si vede evidentemente come a partire dall'anno zero, per i primi 1800 anni, questa variazione è stata vicina allo zero, ha seguito un andamento naturale. Poi da un certo punto, nel 1880, bam, una rampa incontrollata. È un fatto, è un fatto e adesso siamo a Milano, è ottobre, e ci sono 20 gradi. Quello su cui alcuni, pochissimi in realtà, non sono d'accordo è sull'origine, sulla causa antropica di questo riscaldamento. Ma per capire come mai invece la totalità della comunità scientifica praticamente la pensa così, pensa che sia l'uomo ad aver determinato questo incremento, bisogna ricordare cos'è l'effetto serra. L'effetto serra non è nient'altro che una coperta, una cappa di CO2, sul nostro pianeta, nella nostra atmosfera, che intrappola i raggi solari, l'energia solare, nella nostra biosfera. E quindi l'energia entra, rimane, e non riesce a essere dispersa nello spazio freddo e aumenta la temperatura. Cosa c'entra la CO2? La CO2 è il gas che determina questa cappa, questa coperta. Ed è il motivo per cui è l'uomo la causa di questo fenomeno. Noi stiamo emettendo troppa CO2 nell'atmosfera e la prova di questo, la prova schiacciante che la comunità scientifica ci ha fornito è questo grafico, che fa vedere come negli ultimi 800 mila anni la concentrazione di CO2 nel nostro pianeta ha sempre seguito un andamento regolare, fino a 200 anni fa, in cui anche qui, bam, un'altra rampa, un'altra crescita incontrollata. Lì c'è stata la seconda rivoluzione industriale, c'è stato l'uomo. E come mai stiamo emettendo così tanta CO2? Da dove viene tutta questa CO2? Ci aiuta quest'altro grafico a torta questa volta, in cui si vede che il 70%, quindi la stragrande maggioranza della CO2 che noi emettiamo nell'atmosfera, deriva da la produzione di energia. Energia che ci serve per alimentare, supportare, farci crescere e per supportare tutte le attività umane che noi svolgiamo sul pianeta. Quindi c'entra l'uomo. Come facciamo a ridurre tutto ciò? Come facciamo a far rientrare questa crescita incontrollata? Non sarà una lampadina LED a salvarci. È come dire che, non so, io voglio dimagrire, però andando tutti i giorni al fast food e ordinando il caffè senza lo zucchero. Oltre il 70% delle emissioni di CO2 della nostra società derivano dalla produzione di energia. Ma quando abbiamo iniziato a produrre così tanta energia e quindi così tanta CO2 e perché? Bisogna tornare indietro alla fine del 1700, quando James Watt in Inghilterra ha inventato la macchina a vapore. Tutto parte dalla macchina a vapore, che inizialmente era una soluzione a un problema ben specifico. Dovevano tirar fuori l'acqua, le infiltrazioni d'acqua, dalle miniere. E prima lo facevano le persone, i minatori, con dei secchi, mettendosi l'acqua addosso e faticando. La macchina a vapore è stata la soluzione a quel problema. La cosa curiosa è che la soluzione ad un problema è diventata poi gradualmente motore di crescita, motore di profitto. Quando l'umanità ha scoperto che poteva bruciare risorse naturali come il carbone, la legna, combustibili fossili per trasformarli in lavoro utile, ecco, lì è successo qualcosa di unico nella storia dell'umanità. Su questa possibilità si è fondato un nuovo sistema economico, il capitalismo, che per definizione si basa sulla proprietà di mezzi di produzione, sulla tecnologia, quindi la macchina a vapore, col fine di utilizzarla per produrre profitto, crescita. Crescita un po' fine a se stessa, possiamo dire. Una crescita che è incontrollata e che si vede anche nei grafici della demografia, della popolazione mondiale. Se vediamo questo grafico, anche qui, è identico praticamente a quelli della temperatura, della CO2 che abbiamo visto prima. Una linea orizzontale che poi a un certo punto impazzisce, impazzisce negli ultimi, questa volta, 50-70 anni. Quando mia madre è nata nel 1950, in questo mondo eravamo 2 miliardi e mezzo di persone. Nella sua vita, adesso a circa 70 anni, siamo diventati 8 miliardi di persone. Un per tre in 70 anni, quando in due milioni di anni eravamo arrivati a 2 miliardi e mezzo, un qualcosa di incredibile. E questa cosa è conclamata e insostenibile. Più siamo, più consumiamo risorse, più emettiamo CO2, più amplifichiamo il problema dell'effetto serra e quindi andiamo a sciogliere i ghiacciai perché aumenta la temperatura, aumentano i livelli dei mari, le terre diventano secche, c'è il problema della siccità. Si riduce la percentuale di terra disponibile per la vita, si riduce la disponibilità di terra disponibile per la coltivazione, quindi meno cibo, ma noi siamo sempre di più. Andiamo incontro a una vera e propria crisi demografica. Ma siamo veramente fritti? In realtà c'è una speranza, ma se è vero che il capitalismo è intimamente connesso al global warming, è veramente difficile pensare che questa speranza risieda nella fine del capitalismo. Non è ragionevole pensare che i CEO delle più grandi multinazionali da un momento all'altro cambino completamente le proprie strategie, accettando di diventare dei martiri ambientali. Non è ragionevole pensare che la politica sia l'unico modo per innescare questo processo. Basta pensare agli Stati Uniti che hanno deciso di uscire dagli accordi di Parigi, degli accordi in cui tanti paesi si erano messi insieme per decidere di risolvere il problema del global warming. Non è possibile pensarlo. Io credo che la soluzione risieda nel ricambio generazionale a cui stiamo andando incontro. Un ricambio generazionale che porterà in posizioni di potere, di decisione, delle persone, dei giovani che sono cresciuti in un contesto completamente diverso da quello degli anni 70-80. Diverso da quello in cui sono cresciuti i baby boomer che avevano davanti un'economia in fortissima inarrestabile crescita, un'economia in cui non si parlava tanto di temi ambientali come si fa oggi. Un'economia in cui sostanzialmente c'era molto meno incertezza, molto meno rischio. Noi giovani di adesso, di 20-30 anni, nati negli anni 90, negli anni 2000, dobbiamo accettare il rischio come una componente naturale del nostro futuro. E questa cosa è una difficoltà, è qualcosa che ci rende più difficile progettare il nostro futuro. Ma dall'altra parte ci rende molto più inclini a rischiare. È una generazione che è pronta a rischiare, è una generazione ad altissimo potenziale. Noi dobbiamo partire da questo per ricordarci che è tutto sulle nostre spalle e soprattutto che saremo noi a dover pensare modelli di business all'interno di questo sistema economico, che saranno sostenibili non solo economicamente, ma anche ambientalmente. È un nostro imperativo morale. La bella notizia è che esistono ormai evidenze concrete, reali, del fatto che questi modelli che hanno una sostenibilità sia economica che ambientale funzionano. La sharing economy, la circular economy sono solamente due esempi che ormai sono pervasivi nelle nostre vite. E ci sono start-up, aziende nuove che stanno mettendo in forte difficoltà dei colossi mangiando mercato a queste multinazionali e quindi dimostrando che non è solamente un qualcosa di possibile a livello ambientale, ma è anche conveniente a livello economico. Noi dobbiamo partire in questo contesto sbagliando, provando, rialzandoci e poi alla fine riuscendoci. Noi dobbiamo essere quelli che decidono di alzarsi dalla propria poltrona in ufficio per provare a fare qualcosa di nuovo, per provare a salvare il mondo. Fondando la nostra azienda, andando a lavorare in un'azienda con questa missione, aprendo un'azienda agricola in Umbria. Tutte queste cose indeboliscono il vecchio sistema, quello che ci ha portato dove siamo oggi e foraggiano un modello, un nuovo sistema con una nuova mentalità, quella giusta per risolvere finalmente questo problema enorme che ci troviamo davanti. Abbiamo bisogno di persone che abbiano la voglia di fare tutto ciò e perché no di divertirsi anche da morire nell'impresa.